Ci proponiamo come una professione, con una capacità di poter sopperire e di poter dare una mano a tutto ciò. D'altra parte il percorso degli studi che un farmacista svolge per giungere alla laurea hanno tutti questi contenuti che via via si vanno ammodernando in funzione di quelle che sono le necessità. Quindi la grossa sfida che noi ci poniamo è quella di essere dei perni per impiantare l'assistenza sanitaria soprattutto in quelli che sono i piccoli centri che vanno sempre più spopolandosi e che diventano sempre più difficili da raggiungere e che hanno meno appeal per chi uno possa andare ad esercitare la professione in quei luoghi. Grazie. Grazie.